Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Mamma Piera e papà Pietro Pulizzi cercano disperatamente ancora oggi la loro bimba. La donna, qualche giorno fa, ospite di Verissimo, per la presentazione del suo libro Denise, per te, cenne tutte le mie forze, ritiene che sua figlia sia viva, pur avendo paura che le abbiano fatto del male. Dicendo che continuerà a cercarla fino a quando non ci sarà una prova del contrario, ossia che lei sia morta. Oggi, 26 ottobre 2022, Denise Pipitone compirebbe 22 anni e mamma Piera, papà Pietro, il fratello Kevin assieme a sua moglie Brigitte, che lo ha reso padre da poco della piccola Diana, hanno voluto dedicarle, su Facebook, un commovente messaggio che righerebbe gli occhi di lacrime a tutti coloro che sono sensibili, ne sono certa. Queste le parole che la famiglia di Denise ha affidato a Facebook, 18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon compleanno Denise, ovunque tu sia. Un messaggio struggente, costellato dal dolore della scomparsa e dalla speranza del ritrovamento, accompagnato da uno scatto in cui la piccola appare felice e sorridente. Sono parole che arrivano dritte al cuore, nonostante il caso Denise Pipitone sia ancora un giallo. Un rompicapo per gli inquirenti e per gli stessi legali. Ovviamente al messaggio sono seguiti tantissimi commenti degli utenti, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza, seppur virtuale, in questo giorno speciale, purtroppo non vissuto accanto alla festeggiata. Grazie a tutti.